Passiamo a Margherita Estazio, a sua insaputa noi l'abbiamo già presentata, quindi andiamo a noi con il titolo di svelicamento, i docenti della classe e la didattica, definire il set professionale e il set di sostenere evoluzione della vita. A questo punto cambiamo un attimo la prospettiva, perché fino ad ora il fuoco dell'arriazione, il centro dell'attenzione sono stati i studenti, scusatevi sì, mi trovo anche presente, anche pazienti. Ora andiamo un attimo a cambiare, abbiamo parlato, senza parlare di relazione, la relazione è fatta da più nodi, ci spostiamo sul nodo dei docenti. Docente, classe didattica, perché ci spostiamo sul nodo dei docenti? Perché comunque stiamo parlando di evoluzione, stiamo parlando di imporsi in un modo diverso, per affrontare in maniera diversa quello che si trova in classe a tanti livelli, sia a livelli di conoscenze, che a livelli di relazioni, che a livelli di modelli per il lavoro. Per fare questo avrà necessario costruire un set professionale e quindi ci vorremmo sostanzialmente una serie di domande stamani, anche perché ho l'appuntura di poter lavorare con voi per diversi tempi, quindi le risposte proveremo a cantare anche a cercare insieme, però qualche idea a questo punto, quelle che sono le basi da cui partirò io e che ripropongo a voi. Intanto la figura del docente è qualcosa di cui si sta parlando tantissimo, specialmente nell'ultimo periodo, nell'ultimo periodo quando scuola, con i casi di valutazione, si parla molto del profilo e della profilatura del docente. Dove si muove lavoro a questo docente? Dove lavora? La scuola sta cambiando? La scuola è cambiata? La società? Qual è il ruolo di un docente nella scuola, nella società? Cerchiamo un attimo di capirlo. Ognuno ha i suoi pallini, come vedete per me, uno dei miei pallini è cercare di rispolicizzare le cose, perché comunque credo che i stori magistri vite non sia proprio la cosa più sciocca che si è stata detta. Per rispolicizzare un attimo la figura del docente, io mi allaccerò insieme a voi a uno studioso che è Piero Romei, che è stato molto vicino alla scuola, partendo da studi assolutamente diversi, da sconti di economia. Vedremo come in realtà si è allontanato moltissimo da, forse l'abbiamo capito in modo più profondo di quanto non abbiamo fatto altri economisti che si sono affacciati alla scuola. Romei sostiene che i docenti hanno alcuni tratti culturali che li contraddistinguono. L'individualismo dopo il fatto di avere una competenza quasi esclusiva, disciplinare, che li rende speciali all'interno della loro classe, ma anche all'interno del Consiglio. Quanto io so di latino piuttosto che greco, e quanto quindi sono in grado di valutare determinate situazioni, lo so io, collega di matematica accanto, difficilmente lo saprà. La consapevolezza della natura e delle indicazioni del proprio lavoro è un lavoro assolutamente particolare, perché i docenti devono costruire conoscenza lavorando sul materiale umano, quindi hanno una serie di elementi delicatissimi che maneggiano con disinvoltura tutti i giorni. L'autoreferenza in parte diviene in qualche modo da questo, perché si tratta di un lavoro talmente particolare che da un certo punto di vista diventa difficile confrontarsi con i docenti, gli altri docenti. Tra l'altro diventa difficile confrontarsi con gli studenti, quindi una serie di problematiche che portano a un'assortazione di fine delle pratiche, non ha difficoltà di confrontarsi, che spesso può essere un problema. Un'attenzione a determinate informalità che comunque vengono richieste, perché la scuola è una comunità, la scuola è una società, ma la scuola è un'istituzione si chiede determinati allendimenti a cui i docenti devono rispondere. La burocratizzazione non è un caso, è diventata una delle cose che i docenti sentono maggiormente come peso. Perché? Perché viene loro a sentrare tempo per lo studio, tempo per la riflessione, tempo per la relazione, chi è studio e riflessione, che loro invece devono dare a forme che molto spesso non vedono come, e forse non sono, utili per la loro profissionalità reale. Questi docenti si muovono in una scuola che ormai provano a leggere attraverso tre metafore, tre arena, che si identificano rispetto ai tipi di collaborazione che si possono investare al loro interno. L'arena dove la collaborazione è residuale, soltanto finalizzata a uno scopo molto vicino e molto pratico. L'organismo dice una naturale prudenza all'organismo, alla collaborazione e all'impresa, dove consapevolmente e intenzionalmente ci si pone al servizio della strategia unitaria, comune, organizzativa. Ora, quando ormai parla di impresa, pur essendo un economista, non parla dell'azienda, anzi, ci dice che chi parla della scuola come azienda è in qualche modo in malafidi. Quando parla di impresa, dice questo, secondo me sono parole molto belle che descrivano molto bene il lavoro che si dovrebbe fare e che spesso si fa, quasi sempre si fa a scuola. L'impresa in base non è turbola la creatura economica, ma la quale si è caratteristica. In particolare è la scimpresa della protasi dell'Orlando Fulioso. È un'audacea impresa di perdere la cristianità contro i mori. Può andare sulla luna per recuperare il seno per tutto l'Orlando. È un'audacea impresa per sopravvivere le organizzazioni, rendendoli e mantenendoli capaci di reggere il confronto con il proprio contesto ambientale. Con questo è il tipo di collaborazione che, secondo me, è il diosente molto avanti nel suo lavoro con i colleghi, con il resto della comunità, con gli studenti. La scuola ha, come veniva sottolineato prima, ha avuto una serie di miti, il pian piano però si sono andati indebolendo, cioè il valore del futuro di studio e la libertà di insegnamento. Saremo che questo è forse il più convinto che si è andato indebolendo, un diritto che si deve andare via ricostituendo e una modalità di lavoro. A cui sono stati molto apposti tutta una serie di elementi aziendalistici, aziendalistici con senso per l'operativo, efficace, efficienza, funzionalità, qualità, ma sono tutti elementi che, se di nuovo distorsizziamo e non distorsizziamo, nascono non per organizzazioni che sono imprese che vanno a recuperare il seno di Orlando, nascono per gli studi di Jura, di Deming, da cui nasce la qualità globale, nascono tutti i vari cicli che poi sono stati variamenti applicati nella scuola nascono già il tentativo di far funzionare l'impresa giapponese post bellica. Quindi forse possono essere utilizzati ma vanno riletti e vanno portati a scuola con l'arancio che solo la scuola porta a loro. Per far questo, all'omei chiamano la postualità collegiale che si ha tra i docenti e che va a costruire un sistema di coerenze che valorizza l'agile del docente fatto di scienza e coscienza. Questa è una cosa che in una definizione troppo bellissima perché difficilmente si troverà un lavoro in cui si richieda così tanto entrato in questi elementi. Quindi vediamo chi è il docente. Una carta di identità del docente, molto bella di nuovo, era già stata tracciata all'interno del DPR del 75, l'autonomia, la famosa autonomia. Perché? Perché si andava già disegnando il docente ricercatore che aveva autonomia didattica, autonomia organizzativa, autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Se è stato detto da un po' più facile, sicuramente è vero che in realtà si è trattato di un'autonomia mutilata, però questa carta di identità del docente è un po' qualcosa che forse vale la pena continuare a tenere presente per vedere come a partire da questa si possa lavorare. dal 99 forse ancora si tratta di tutti gli elementi rapidi. Stesso docente circa che abbiamo nella normativa che abbiamo nella letteratura perché partecipa da un insegnante di settore che analizza la propria pratica, che pone domande, riflette e agisce nell'azione perché comunque il tempo della scuola e il tempo dell'azione del dosaggio è molto particolare, è contestuale, si agisce, si riprette, si reagisce molto spesso in una frazione di secondo, a volte invece è necessario farlo nell'atto di tre, cinque anni, quindi ecco anche la temporalità ha un valore particolare. Schell ci parla del magnifico professionista riflessivo che ritorna costantemente sulla propria azione per comprenderne il senso, per capire come questa azione si è svolta, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, come può essere migliorata. Qui in qualche modo ritroviamo anche gli elementi della qualità, il ciclo del miglioramento che può essere appunto applicato per la personalità docente anche se con tutte le appunto cauterie che lo distaccano dal contesto aziendalistico. Per accettare l'insegnante è un momento complessivo orientato a bisogni e distanze dei suoi alunni che collabora e discutono con loro. Ecco questo è un insegnante che ha tutta una serie di competenze legate alla vita della classe, legate al rapporto con gli alunni e con le loro peculiarità come persone, come contesto, come soggetti, legate alle materie insegnanti, perché di nuovo la disciplinarità ha un valore specialmente nel secondo ciclo fondante, rispetto alla società e rispetto a se stesso, perché appunto la completa, la competenza completa di sottolineare una strada dall'interrogato spontaneo di un piano dell'insegnante sulla capacità di prendere decisioni illuminante a seguito degli avvenimenti della giornata. Quello che dicevamo appunto non è un lavoro fatto di scienza che coscienza. Questo perché l'insegnante deve avere tutte queste competenze, tutte queste capacità per essere un professionista così completo, come difficilmente si chiede ad altri, perché ho un conto in particolare, il suo conto è quello di educare, in senso etimologico, al di là appunto dei limiti della qualità globale, con un ruolo proiettivo che deve avere la scuola. La scuola non è chiamata, una scuola viene chiamata, un insegnante proiettivo, un atteggiamento proattivo, non di soddisfazione di desiderata del cliente, che cosa chiedono gli studenti, che cosa chiedono le famiglie, ma di guida che struttura le esigenze dei suoi interlocutori e diventa in grado di acquisire coscienza delle proprie necessità, stimolandoli con proposte progettuali e con proposte di crescita personale e collettiva. Il dosente esce nella classe, anche qui questo termine apre un vaso di mandorla. Cosa vuol dire classe? Cosa vuol dire oggi classe? Già certi è uno dei termini in cui ho provato a scomporre, ma già questo termine viene utilizzato in tanti sensi. Che dimensione ha oggi la classe? Quali sono le relazioni che si vanno a innescare? La classe è fatta di soggetti, di un setting, di un ambiente, ma di sottimuomo tutti questi sono elementi multidimensionali, e multifocali che devono essere visti in maniera multiprospettica, molti e molti velovo tutto. È fatta di relazioni, i soggetti che partecipano nella classe sono fatti di relazioni tra di loro, la relazione docento-studente, la relazione studenti-studente, uno a molti, la relazione docente-classe, non soltanto docente singolo. Queste sono le relazioni interne alla classe, ma poi ci sono anche le relazioni esterne, perché la classe è un elemento di una situazione scuola, all'interno della quale ha un proprio ruolo, di una situazione società. Ogni scuola si relaziona con un'utenza, con un contesto particolare. Tutto questo va a incrociarsi anche con le esperienze, ci sono esperienze comuni della classe che sono state portate avanti, su cui si può far presa, ma ci sono anche un portato dei simboli, che deve essere a volte tirato fuori, a volte valorizzato, a volte implementato, una volta creato una siniva in maniera tale che poi però ci sono cose a portare il proprio contenuto all'interno della classe. Un setting che è sempre più complesso e che è costituito da spazi che non sono più in tutti i spazi tradizionali della classe con, appunto che vediamo prima, cattedra, banchi, o a volte lo sono, possono essere pensate anche in funzione di altre tecnologie. È vero che questo è qualcosa che ha preso il silenzio, ha preso campo molto nel primo ciclo, ma in realtà anche al secondo ciclo sono stati fatte dei passi avanti che secondo me sono assolutamente interessanti e che hanno modo in modo di poter essere perché non vogliono anche qui. Abbiamo un setting tecnologico che sia che ci sia sia che non ci sia fa comunque influenzare il modo di agire del docente in modo di fare didattica. Se c'è perché mi chiedono delle competenze perché è importante riuscire a utilizzarli in maniera costruttiva, strumentale e non far sì che la finalità siano le tecnologie, se non c'è perché comunque questo può creare problemi relazionali con i migliori, con la potenza, perché comunque c'è tutto un discorso di mediation legato sia all'immunologia sia all'orso della specificità disciplinare che chiede una riflessione, competenza ulteriore. L'ambiente classe è un ambiente sempre in cambio e d'altra parte sempre più stretto perché comunque c'è una classe all'interno della scuola, c'è un territorio con il quale bisogna interfacciarsi, l'alternanza scuola-lavoro è uno degli elementi, ma poi si va anche oltre questo perché si possono costruire reti di scuole, reti di esperienze, l'alternanza scuola, l'alternanza scuola, l'alternanza scuola, l'alternanza scuola, si parla di didattica in tanti modi, riflettiamoci, l'attività, l'attività didattica, l'azione didattica, è un processo, sono prassi, anche qui proviamo a vederla in un'ottica di storicizzazione della letteratura del periodo più recente, comunque se ne è parlato molto e con elementi che ci possono essere utili. Quindi si passa da un sapere sapiente nella trasposizione, cioè un elemento disciplinare che si deve essere insegnato a un che è considerato utile, quindi viene inserito nel programma, dopodiché il contenuto del studio iniziale, questo contenuto del studio iniziale di trasformazione che lo rendono adatto ad essere presentato e proposto alla classe per diventare un oggetto di disegnamento. C'è però qui, ci sono vari elementi, ci sono elementi di soggettività e elementi di società, perché esiste nella trasposizione nazionale sia sia la mediazione dell'insegnante che trasponde questo contenuto, sia il modo in cui viene ricevuto dagli alunni con due dimensioni, una dimensione didattica e una dimensione di assiologizzazione. Quindi una dimensione puramente didattica, una dimensione più valoriale in cui viene operata una scelta nella logica della scelta per la presentazione dei contenuti, i materiali che vengono proposti, i compiti, le consegne, i materiali di valutazione, questa fa parte della digitalizzazione, ma poi c'è una parte anche della solidizzazione, cioè il rapporto dell'alunno con il sapere, con qual è il valore quello che stiamo presentando. Allora, come tutto questo va a impattare nella fronte di un valore, con gli insegnanti, con la società. Una delle proposte che è stata fatta tutta italiana è quella italiana che controlla trasposizione e mediazione. Quindi se insegnare significa trasmettere conoscenze sui sapere, il contenuto deve essere comunicato e non trasposto. Quindi quello che si passa da un concetto di trasposizione, etimologicamente inteso, è un concetto di mediazione in cui appunto il docente cambia per davvero il suo ruolo e diventa un concetto tra quello che si deve trasmettere, così come quando si è preso, enti come docente di formazione e come poi lo si va a portare in classe e questo viene appreso, compreso e rielavorato da le persone che abbiamo davanti. Infine quello di costruire conoscenza, per ricostruire conoscenza e creare conoscenza nuova tutte le volte che si porta qualcosa all'interno delle classe. Questo processo di mediazione è un processo molto complesso, un processo che anche se è interattivo e disituato e si sposta su vari assi che riguardano interazioni di vario livello, controllo che comprende il controllo convenzionale delle conoscenze, l'organizzazione delle conoscenze, la rivoluzione del funzionamento cognitivo e il funzionamento perspectivo e una serie di interazioni anche di altro tipo, dall'organizzazione, in attenzione di valore e l'interazione del controllo convenzionale. Su tre registri fondamentali, quello sistemico, quello pragmatico e quello relazionale. Tutto questo si applica alle situazioni di apprendimento. Ho scelto questa rifinzione di situazioni di apprendimento in ASCIP come unica base delle pratiche di insegnamento. Il programma in Voce è un punto di vista minima, la situazione, che approccia una serie di fenomeni che sono sia didattici che non didattici perché entrano in gioco in questo passaggio di conoscenze, in questa ricostruzione di conoscenze. Andando a impattare soprattutto su un elemento molto importante, il prima. Il prima non soltanto inteso come modalità di serenità a scuola, stradine a scuola, ma come modalità della relazione che si può trovare. Se quello che si deve fare è andare a costruire conoscenze insieme, allora sì, ci può essere qualcuno che si fa portatore, che si fa guida, che si fa coach, in un senso più etimologico, ma appunto ci sarà una classe che è abilitata a lavorare su questi temi in determinati modi, che importerà un contributo che porterà a non un apprendimento, ma una ricostruzione proprio di conoscenze, in un senso molto più cristianale in cui tutto quello che si conosce viene costruito dalla comunità. Come si propone di fare tutto questo in genere? Ultimamente si è sempre voluto parlare di idea creativa, di psicolativa, anche se questo ultimamente, come per esempio nei lavori di oggi conferigio, ha appena 101 anni, quindi è un uomo che forse così nuovo non è, però che ha ancora molto da dire che ha bisogno, che non aveva bisogno e che non aveva bisogno di essere riportuto. Cioè è l'attivismo tecnologico di lui, che contiene moltissimi elementi che tutt'oggi vengono proposti e portati come grande novità. Grande novità, appunto, nel 2001 anno, forse non sono, ma sono sicuramente elementi che possono essere che erano quasi allora e che se letti in una prospettiva storicizzata e contestualizzata hanno tuttora un loro valore metodologico molto forte che può essere applicato quindi la centralità dello studente, l'importanza della psicologia e del guardare alla psicologia che è proprio in grado di dirci nella sua condizione. Il cambiamento del ruolo dell'insegnante che si pone come guida e non si pone più come dispensatore di conoscenze già prese, già date e non devono più essere costruite, che devono semplicemente essere cercate. Il legame con gli interessi e i bisogni di chi sia davanti, si parla tanto di didattica situata e il legame dell'insegnamento con la vita, con quello che si va a fare, si va a costruire. L'intelligenza operativa come elemento che deve essere costruito in considerazione della nostra scuola. Si parla molto di didattica laboratoriale. Allora noi oggi parleremo, e con questo sono state sicuramente veloce recuperate ogni quanto abbiamo fatto, ci vediamo nei detti, andremo a parlare nel discosso di tutto questo, cioè di didattica attiva, di metodologie della didattica attiva, di laboratorio di didattica laboratoriale. Perché? Perché si tratta di tematiche che non sono nuove e tutte le volte che si parla di rinnovare, di cambiare, si va a parlare di questo. Perché forse sono non tanto delle, un qualcosa di dato di nuovo, ma qualcosa che può essere ricostruito sulla base della propria realtà, sulla base di quella professionalità fatta da scienza e coscienza che ognuno ha in aula e che ognuno porta nella propria scuola e nella propria società. Due definizioni intanto di laboratorio, molto recenti, faremo un lavoro a rendu, partiamo da definizioni di recenti, poi andremo per dire invece a problematizzare, perché non sono due vicini di questi non recenti. Il laboratorio come percorso formativo è stato definito, appunto, in testo recente, come il laboratorio che è un ambiente per il quale è possibile seguire un itinerario di ingresso attraverso una didattica possibile e per la piaccia. Altra definizione, il laboratorio come sticina di metodo juristico dove si allenano l'impergenza e la fantasia con l'obiettivo di scominare il doppio prestigioso traguardo grellano dell'imparare a imparare, dell'imparare a imparare e dell'imparare. Oggi proveremo a vedere come e se è possibile dare una definizione di didattica di didattica laboratoriale, al di là della slide, che sia possibile utilizzare davvero in classe e che sia possibile portare avanti in un percorso di mediazione didattica, ma anche di costruzione che sia professionale attraverso un processo di presentazione, documentazione e riflessione, che viene fatto dal singolo docente anche per essere un comune costruito sia nella classe che con la comunità, con la comunità professionale, intesa come colleghi, docenti, ma anche per andare a costruire quelle conoscenze che fanno sì che la scuola sia portatrice, costruttore, architetto, costruttore di valori all'inferno di una comunità. E con questo le parleremoci da breve.